L'azione cattolica a Terni anche quest'anno come negli anni precedenti è cresciuta, sette anni fa avevamo 11 associazioni parrocchiali, adesso 23, gli aderenti nel complesso sono cresciuti del 50%, ma questo è solo un aspetto, l'aspetto più vero è che l'associazione è inserita nella vita delle persone normali, delle parrocchie, dei quartieri, delle città, quindi porta con sé e anche con fatica i grandi problemi della nostra chiesa, i grandi problemi della nostra città, delle nostre città, ma questo è il suo compito, come dice il concilio, condividere le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini e dei poveri soprattutto, quindi è un'azione cattolica che cresce, ma è un'azione cattolica carica delle fragilità, delle fatiche, degli uomini e delle donne di oggi. Quindi io sono contento di aver partecipato a un gioioso impegno di centinaia di persone nella stessa direzione e lascio un'azione cattolica che in un certo senso deve continuare ciò a cui la Chiesa la chiama ad essere, non siamo noi che facciamo l'azione cattolica, ma noi semplicemente rispondiamo a una richiesta che ci viene dai Vescovi e dal Papa e lascio un'azione cattolica che deve fare cose nuove, perché il tempo che viviamo è nuovo, gli anni che ci abbiamo di fronte sono diversi da quelli che abbiamo alle spalle, quindi chi verrà come responsabile, esattamente come ogni uomo e ogni donna, ogni credente, ogni giorno, sarà chiamato a fare le cose migliori di quelle del passato, ma tante cose nuove che il Signore gli chiede. Dentro questa Chiesa noi abbiamo costruito spontaneamente una collaborazione straordinaria con l'Ufficio Catechistico, con la Caritas, con la San Vincenzo, con l'Ordo Virginum, scoprendo che proprio il fatto che facciamo cose diverse da credenti ci aiuta ad andare insieme. Straordinaria la collaborazione con l'Ordo Virginum, in particolare con Emanuele Abboccioni, ormai noi da tre o quattro anni forniamo un cammino biblico alla Diocesi, che l'Ufficio Catechistico e la Diocesi con gioia fanno proprio, quindi stiamo costruendo una deriva contraria allo spappolamento e alla burocratizzazione della Chiesa, una deriva più che di collaborazione, che sarebbe ancora poco, di unità. Ogni anno sono il Papa, i Vescovi, ci ha scritto una lettera molto bella Monsignor Soddu per questo 8 dicembre, e i parroci che invitano tutti i battezzati e tutte le battezzate ad aderire all'Azione Cattolica, che è un'associazione ecclesiale, un ministero ecclesiale, che non implicano altro se non il vivere la tua vita da cristiano, il prendere sul serio il battesimo, un invito che il Concilio Vaticano II e poi i Pontefici hanno rinnovato, un invito che viene fatto l'8 dicembre ufficialmente, è possibile in ogni giorno dell'anno, ad aderire all'Azione Cattolica, ma la data scelta per questo appuntamento è l'8 dicembre, perché è il giorno nel quale noi ricordiamo il sì, dico lei che è modello della Chiesa, cioè Maria, il sì al quale si ispira il nostro sì. Quindi l'unica cosa che io posso dire è state tutti e tutte attenti, generosamente attenti, agli inviti veri che ci vengono dalla Chiesa, quello ad essere cristiani nella società e laici nella Chiesa. Questa è l'Azione Cattolica. Questa è l'Azione Cattolica.